Si è appena inaugurata la prima mostra monografica dedicata a Pestum fuori dall'Europa. L'esposizione durerà fino al mese di luglio 2020 e sarà ospitata anche in diversi musei della Cina. La mostra è partita con grande successo, dichiara la direttrice del Museo Cinese. Siamo grati al Parco archeologico di Pestum per la collaborazione che permette al pubblico cinese di conoscere meglio la cultura del Mediterraneo antico. Speriamo che la collaborazione continui nell'ambito di uno scambio culturale reciproco tra i due popoli, quello italiano e quello cinese. La mostra itinerante espone 135 opere pestane, tra cui la statua di Hera in marmo proveniente dal santuario dedicato alla Dea presso la foce del fiume Sele e le sue riproduzioni in terracotta, alcune lastre dipinte che rappresentano testimonianze archeologiche uniche in tutto il contesto del Mediterraneo antico, dei corredi delle necropoli urbane fino alle produzioni vascolari più note, tra cui spicca il ceramografo pestano Asteas. La sensibilità che ha dimostrato il Museo Provinciale di Ebei nell'ospitare questa mostra su Pestum come città del Mediterraneo è notevole, sostiene il direttore Gabriel Zuchtriegel. Devo dire che in questo i colleghi cinesi si sono dimostrati più sensibili di molti musei europei, che continuano a raccontare la Magna Grecia come un mondo periferico e marginale, laddove rappresenta una delle radici della cultura e del pensiero occidentale. I lavori di allestimento della mostra sono stati eseguiti dal personale del Parco archeologico. I restauratori Franco Calceglie e Raffaele Cantiello e l'archeologo Francesco Scelsa hanno lavorato fianco a fianco con i professionisti delle Bee Museum per realizzare un'esposizione che esalti il fascino della cultura di Pestum, anche con la riproduzione della tomba del tuffatore.